Ciao a tutti, probabilmente avrete già letto il titolo del video. Allora, è un po' che penso a questa cosa, è un po' che ci rifletto su. Stavo pensando quanto vale la pena dover sopportare tutte le angherie, dover combattere contro haters, dover combattere contro menzogne, dover combattere contro commenti cattivi e veramente squallidi, a mio avviso. E la cosa che veramente mi ha fatto rimanere molto, 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 molto male è stato appunto un commento che è arrivato sotto al video del... del... aspettate che adesso sto aprendo il computer e vi leggo questo commento che mi ha lasciato senza speranza, senza veramente voglia di farmi domande, di chiedermi come sia possibile che certe persone elaborino anche solo certi concetti, certe assurdità. Mi ha lasciato veramente senza... senza parole, sinceramente. È un commento che io ho messo in primo piano per farlo vedere il più possibile che ora cancello, dopo che ve l'ho letto, lo cancello immediatamente. Ovviamente queste persone sono state bloccate subito e... vi leggo perché ha del... Allora, è pubblico, non dirò il cognome però, dico il nome e penso che si commenti da sola questa cosa che secondo me deve avere proprio una... perché sono rimasta senza parole, non so proprio qualcosa a pensare credo che non ci sia mai limite al peggio comunque, Elga scrive tanto si è capito che quelli non sono i nipoti di Davide bensì i figli puntini, puntini, puntini e una sotto rincala la dose una col nick Mimuen Mimuen07 senza foto gli risponde Elga sai che era avvenuto il dubbio anche a me? il fatto che lui abbia i loro nomi tatuati sul braccio attenzione nomi tatuati sul braccio e che i bambini vadano a turno dai nonni probabilmente alle visite prestabilite dal giudice ma perché inventarsi la storia dei nipoti? appunto, perché? vabbè non c'è nulla di male avere un compagno che ha già dei figli e comunque perché la famiglia copre la bugia? veramente avete delle perversioni mentali che fanno rabbrividire veramente ovviamente sotto c'è gente che mi difende io ringrazio ho dovuto mettere questo video con i commenti in approvazione dopo questa cosa che ha dell'inverosimile allora uno io ho una figlia non ho avuto nessun problema figlia bellissima che tutti conoscete che si chiama Sharon ha 20 anni chi non lo sa io ho una figlia che si chiama Sharon e ha 20 anni e non ho mai nascosto davvero una figlia non è che ho detto ho una nipote ho una cugina una sorella no se Davide avesse avuto dei figli cioè ci rendiamo conto quale sarebbe stato il problema di dire sono i suoi figli? non lo so non lo so veramente sono demoralizzata davvero non ho parole per tutto questo tra l'altro mi sono di nick falsi questi di persone secondo me che ancora cercano di cavalcare l'onda per poter parlare di me ma non hanno appigli perché io assolutamente nomi non ne faccio ho già detto a tutte le persone che mi hanno scritto che mi hanno riportato che ci sono state ancora live battutine eccetera eccetera non mi interessa perché loro devono cadere nel dimenticatoio da dove sono venuti il loro posto è il dimenticatoio punto veramente pensare a una cosa del genere è gravissimo secondo me è veramente grave perché non c'era appunto ripeto il fatto che lui si sia tatuato il nome dei suoi nipoti è perché vuole bene i suoi nipoti voglio dire ma è il primo che si tatua il nome dei nipoti sul braccio what no vabbè io sono senza parole sono scioccata veramente sono scioccata di che persone pensino certe cose sono veramente esasperata da tutto questo perché non è possibile cioè leggere certi commenti secondo me è di una brutalità di una violenza che non ha paragone secondo me è peggio degli insulti delle cose certi commenti fanno veramente lasciare così senza senza ritegno veramente non ho parole cioè proprio bisogna avere delle macchinazioni in testa cose io non ho parole sono scioccata sono scioccata veramente non cose veramente che hanno del ridicolo santo cielo cioè se appunto avuto dei figli avrei detto Davide a dei figli come io ho una figlia cioè se Davide avessi avuto dei figli avrei detto da questi sono i figli di Davide come io ho la figlia che lui ha accettato come se fosse sua figlia cioè non capisco quale sarebbe il problema cioè veramente basta adesso stiamo andando oltre e continuano comunque arrivare commenti dove sono abusata patologica dove io sono qui io sono su io sono giù basta per favore smettetela non non capisco queste cose veramente sono è troppo tutto questo è troppo veramente non non ce la faccio più a sostenere tutto questo poi anche la storia dei botti veramente io ho preso le fontanelle quelle prese da Lidl che praticamente facevano solo la fontanella e quello non faceva rumore quello che avete visto il tipo il fuoco d'artificio non l'ho preso io l'hanno portato qui i miei nipotini loro vabbè quello grande che poteva farlo io non sapevo neanche che ci fosse quella cosa eppure non è che io voglio scaricare la colpa però è così non li ho comprati io non li ho comprati Davide e tra l'altro i miei nipoti hanno due genitori che sono mia cognata e mio cognato sono persone per bene persone che lavorano e che vogliono bene i loro figli cioè quindi per riassumere tutto sono abbastanza nervosa sono abbastanza arrabbiata perché comunque cioè vedete che chi va e legge una cosa del genere ci potrebbe pure credere vedete come una una sola cosa può distorcere tutto e far pensare cose che non sono vere ripeto Davide non ha figli i miei nipoti Denis e Malika sono nipoti figli della sorella di Davide Simona basta dire cavolate per favore basta dire cavolate smettetela basta io non so perché vi accanite fate cioè veramente bisogna essere cattivi dentro secondo me non ci sono altre spiegazioni e io appunto sono arrivata al punto di dire voglio chiudere il mio canale non ce la faccio più queste cose sono veramente troppe da sopportare basta questo è stato il mio pensiero e poi subito dopo ho pensato no io non lo chiudo il canale perché lo chiudo il canale per queste persone qua e chi sono chi sono loro per giudicare me chi sono loro per dire a me cosa devo fare cosa non devo fare chi sono loro per sapere la verità chi sono loro io ho un mondo di persone che mi seguono con affetto quindi il torto io lo farei le persone che mi seguono per affetto e non è giusto che solo per quei pochi stupidi stolti che si accaniscono che tra l'altro secondo me sono poche persone con più profili falsi che vengono e io subito prontamente le blocco vengono per screditarmi buttare fango su di me basta io vi ho già detto che ho sbagliato una volta ho detto una volta una bugia il resto non sono state bugie se le cose sono state prese distorte e messe così alla mercè solo per macinare le visualizzazioni sulla mia pelle penso che sono problemi vostri che credete a qualunque cosa io mi sono già scusata tantissimo ho ammesso che ho sbagliato ma tutte le altre cose non sono bugie la cattiveria che c'è stata nei miei confronti è veramente qualcosa di assurdo questo video appunto è perché questa è stata la goccia quando trovo a bocare il vaso e comunque volevo mandare un messaggio forte volevo che questo video veniva visto il più possibile per dirvi che io non lo chiudo il canale potete fare quello che vi pare scrivere le menzogne farmi live contro dire cavolate inventarvi bestialità offendere il suo aspetto fisico a me offendere il suo aspetto fisico a Davide offendere il suo aspetto fisico a mia socia cioè ma ma ci rendiamo conto ma come state messi arripigliatevi veramente dai su cioè dai veramente come come si fa essere così cattivi e perfidi io non lo so veramente non lo so voi state bene con la vostra coscienza riuscite a guardare allo specchio e dire oh oggi ho fatto una cosa bella oggi vado fiero che ho scritto quella cattiveria non è bello ricordatevi che poi tutte le cattiverie torno alla mettente non come la storia ci insegna tutto il male fatto torna indietro quindi ragazzi e ragazze io ho pensato appunto faccio questo video ho pensato appunto questa cosa ma subito è stata proprio una frizione un istante proprio un secondo ho detto no io non chiudo proprio un bel niente io sono felice di fare i video sono amata da tantissime persone tante persone mi seguono perché loro devono pagare il prezzo di qualche buon tempone che arriva e butta fango no ma allora voi prendete cambiate canale e lasciate in pace non inquinate il canale con i vostri commenti inutili non venite a fomentare odio perché voi siete fomentatori di odio voi che criticate me dovreste farvi comunque un bel esamino di coscienza e rendervi conto che non siete pensate di essere migliori di me ma voi in realtà siete peggiori di me voi siete peggiori di me perché io non ho fatto niente di male a nessuno io ho detto una cavolata una l'altra cosa è che io ho detto insieme a Davide non sono cavolate e se voi dite è impossibile sta bene qui e là cosa ne sapete voi che io sono seguita da uno psicologo che sto facendo un percorso che magari devo prendere tranquillanti voi non lo sapete non siete nel nel mio quotidiano smettetela io veramente lo sto dicendo in modo tranquillo smettetela infatti anche se vedete che sono anche più tranquilla perché comunque sto facendo un percorso ho dovuto elaborare un lutto e credetemi non è una cosa facile e qui interrompo un attimo ok ho dovuto stoppare un attimo basta io credo di aver detto quello che dovevo dire chi non crede a me per favore cambi canale chi mi crede e mi vuole bene mi è sempre sostenuto io dico grazie di cuore grazie di esserci sempre stati da mia parte grazie di avermi sempre sostenuto ho fatto i miei sbagli ho sbagliato ho sbagliato sulla mia pelle ma io di bugie altre non ne ho dette comunque basta voglio concludere qui perché mi sembra il caso di andare avanti io adesso cancello subito quel commento improponibile e non ho fatto assolutamente come vedete sono stata calma pacata tranquilla voglio stare tranquilla e fare il mio percorso io devo dire le cose se no mi posso tenere le cose dentro perché non posso star male per cose alla fine inutili perché comunque certi commenti sono veramente di persone che non non sanno niente non sanno niente perché una persona comunque non si dovrebbe nemmeno permettere di scrivere certe cose comunque quello che voglio dire mi parlate dietro mi sparlate bene dietro rimanete ciao ciao però se le circostanze portano a dover vedere certe cose io non posso stare zitta ogni volta subire io devo tirar fuori quello che ho dentro anche perché tenersi dentro le cose non fa bene si si crea stress ansia si accumulano un sacco di cose che non fanno bene e poi soprattutto si creano diatribe cose chiacchiericci cose false ma voi non pensate che veramente ci sono due bambini che veramente non c'entrano niente voi neanche davanti a due bambini vi siete fermati a dire cioè riflettiamo un attimo che cosa sto scrivendo cioè ma rendetevi conto che quei due bambini sono i miei ipotini ipoti di Davide che hanno due genitori ma come vi permettete a dire certe cavolate io veramente non lo so non lo so veramente comunque detto questo vi dico se non piace una cosa non bisogna seguire una persona per insultarla si cambia canale c'è il tasto disiscriviti oppure non seguire perché io trovo che sia veramente strano e molto bizzarro seguire una persona per criticarla cosa per scaricare le proprie rabbia cosa sono la vostra valvola di sfogo allora io in quel caso mi farei due domande su su a chi non sono di gradimento cioè dovrebbe farsi un'ottima domanda e dire che cavolo ci faccia fare su sto canale cioè ciao nessuno è obbligato a guardare ringrazio veramente tutti gli iscritti che sono veramente che mi siete tantissimi e mi volete veramente bene in tanti e poi voglio ribadire anche la cosa dell'incontro allora si vede chiaramente dal video che non è una persona ma sono tre persone nel video la prima persona è stata Maria che è venuta anche l'anno scorso e che ringrazio tesoro ti mando un bacione che sei sempre presente ai miei incontri c'erano le altre due ragazze che si vedono chiaramente anche nelle foto e poi sono tre non è una e sono tre ma ripeto anche se fosse venuta una sola persona io sarei stata onorata perché quella persona sarebbe venuta lì apposta per me tra l'altro di venerdì di mattina orario un po' strano giorno un po' strano eppure sarebbe comunque venuta lo stesso se fosse stata una persona invece no che voi chiaramente avete visto sono tre persone ma in realtà sono state una decina perché io ho fatto anche incontri mentre erano nel centro ci sono tutte altre persone le foto le ho fatte sospettando che me le mandano capita che in tanti mi fermano e faccio la foto magari a volte qualcuno me le manda magari a volte qualcuno me le manda dopo tempo quindi io rinvito le persone per favore che siete venuti all'incontro se riuscite a mandarmi le foto ma non perché devo dimostrare perché comunque non me ne frega perché per me è un ricordo che vi ho visto e vi ho incontrato e mi ha fatto super super piacere bene chiusa questa parentesi io non voglio assolutamente dovremmo più giustificare chi mi crede bene chi non mi crede non mi interessa ciao è libero di andare ma l'invito è smettetela di offendere smettetela di essere volgari smettetela di veramente accanirvi contro tutto e tutti e poi lo dico anche per voi perché non vi fa bene rimanere agitati scrivere cose così senza senso bene dopo questo io vi mando un bacione ora vi registro subito il video dei miei tatuaggi e del loro significato lo farà anche Davide sul canale di Coppia farà il video dei suoi tatuaggi e del significato e niente io sono qua vi mando un bacione ringrazio a tutti i nuovi iscritti e grazie che abbiamo superato i 30.000 30.000 iscritti grazie wow siete veramente tantissimi e quindi per 4 stolti non do veramente soddisfazione basta infatti non sto rispondendo più neanche male a nessuno sono una persona nuova diversa che affronto le cose in maniera diversa e e basta detto questo io ne approfitto per farvi ancora un grandissimo buon anno a tutti quanti spero che comunque ovviamente mi rivolgo solamente alle persone che mi seguono con affetto sempre ed esclusivamente a voi mi rivolgo gli altri li lasciamo per i cavoli loro io veramente vi dico grazie siete delle persone fantastiche e spero che possiate realizzare i vostri sogni che questo 2018 vi porti cose belle per chi è single vi porti l'amore per chi è in cerca di salute che vi porti la salute per chi sta lottando magari in ospedale che vi porti la salute un lavoro soldi insomma quello che volete pace serenità e amore ci vediamo al prossimo video ciao ciao